Passo all'oggetto numero 6, anticipo l'interrogazione del consigliere Porzi. Sentenza del Tar Umbria a seguito di ricorso numero di registro generale 823 del 2023 proposto da Nippon Gasis Farma SRL contro .0 Scarra. Intendimenti della Giunta. Prego consigliere Porzi. Grazie Presidente, questa interrogazione riguarda la sentenza del Tar a seguito di un ricorso proposto dalla società Nippon Gasis Farma contro .0. La nostra richiesta intende a capire come vuole orientarsi la Giunta regionale rispetto a questo fatto che ritengo piuttosto grave. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria il 31 gennaio 2024 ha pubblicato la sentenza con la quale ha accolto la richiesta della società ricorrente e disponendo l'annullamento della gara relativa all'affidamento della gestione terapeutica del servizio di ossigeno o terapia domiciliare a lungo termine. Per le esigenze del Tar a seguito di un'Umbria 1 e dell'Umbria 2, con determinazione dell'amministrazione unico di punto 0, è stata nominata la commissione giudicatrice della gara di cui abbiamo detto sopra. L'articolo 18 del capitolato prevede per l'affidamento un'espressa richiesta per quanto concerne la nomina della commissione, la quale doveva essere composta da tre elementi, massimo tre elementi, quindi un numero dispari, con almeno all'interno di questa terna un esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e un esperto in materie giuridiche, quindi predeterminando in maniera vincolante lo specifico profilo tecnico professionale dei componenti dell'organo. Lo stesso articolo specificava poi i compiti della commissione, come è giusto che sia. Con determinazione dell'amministratore unico di punto 0, il 29 giugno del 23 sono stati nominati i tre componenti della commissione. Un dirigente del farmacista dell'Umbria 2, in qualità di presidente, dirigente medico del polo di riabilitazione respiratoria e tisiopneumologia dell'ASL Umbria 1 e di una dottoressa in servizio presso il distretto perugino di riabilitazione respiratoria. Questi curricula confermano per ciascuno dei tre componenti nominati la qualifica professionale. Nessuno di essi è un esperto in materie giuridiche, non potendo ritenersi sufficiente le motivazioni che sono state, diciamo, agosto. La disposizione del capitolato, che prescrive che almeno uno dei tre componenti della commissione giudicatrice debba essere un esperto in materia giuridica, quindi è stato del tutto non preso in considerazione. L'inosservanza di una specifica disposizione del capitolato, commessa da punto 0, che espressamente prescriveva che fosse nominato almeno un esperto in materie giuridiche, è chiarissima. La fattispecie dell'avvalimento veramente premiale della sua ammissibilità sotto la vigenza del codice dei contratti pubblici, di cui il segno di legge numero 50 del 2016, costituiscono questioni che la commissione giudicatrice, incaricata anche della disamina della documentazione amministrativa, avrebbe potuto rilevare ed esaminare solo se avesse avuto all'interno della terna un esperto in materie giuridiche. Il Tribunale amministrativo regionale ha proceduto all'annullamento degli atti della procedura di affidamento proprio a partire dalla determinazione dell'amministratore unico, aspetto che denota, diciamo, una grave mancanza di punto 0 su cui la giunta dovrebbe intervenire a tutela anche della trasparenza e dell'imparzialità della sua azione. Ora, la continuità della fornitura dell'ossigenoterapia, essendo un servizio essenziale, dovrà essere garantita secondo le condizioni della precedente gara. Queste condizioni risultano indubbiamente più onerose di quelle che sono previste nella gara, diciamo, che è stata annullata e questo potrebbe comportare una valutazione di un possibile danno erariare. La precedente gara, quindi avvenuta un tempo fa, adesso non ricordo la data, della durata 4 più 1, quindi 5 anni totali, a causa di un errore di valutazione sui consumi e credo anche di un errore sul numero dei pazienti assistiti, ha comportato che per la stazione appaltante ci sia stata la necessità di indire una nuova gara solo dopo 18 mesi. Anche questo potrebbe rientrare nella fattispecie del danno erariale perché ci sono state delle valutazioni sbagliate, ma qui non siamo in un tribunale. Ecco, quello che ho descritto è un fatto ormai sotto gli occhi di tutti e la richiesta che facciamo è capire come la giunta regionale intende operare rispetto all'azione di punto zero. Grazie, Assessore. Prego, Assessore Coletto. Grazie, Presidente. La procedura di gara relativa alla gestione terapeutica del servizio di ossigeno terapia domiciliare a lungo termine per le esigenze delle aziende sanitarie della regione lunghe è stata bandita a seguito di espressa richiesta delle aziende stesse territoriali manifestata nel corso del 2022, successivamente inserita in programmazione delle gare di punto zero per le annualità 23-24. In particolare, stante il significativo e imprevisto aumento del numero di pazienti assistiti anche in relazione agli eventi pandemici, le aziende hanno riscontrato un incremento di quasi il doppio dei fabbisogni messi in gara e che di fatto ha esaurito la capienza della precedente procedura aggiudicata nel 2021. Tanto premesso, in data 20 aprile 23.0, in qualità di soggetto al regatore regionale, ha provveduto ad indire la procedura di gara tramite l'appalto specifico per l'affidamento della gestione terapeutica del servizio di ossigeno terapia domiciliare a lungo termine per le aziende sanitarie della regione dell'Umbria. Con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura terminava in soli cinque mesi, in data 21 settembre 23, con l'adozione della relativa determina di aggiudicazione. Successivamente, alla suddetta giudicazione veniva impugnata dall'operatore economico secondo in graduatoria, rilevando sia un vizio di forma nella composizione della commissione giudicatrice, nonché di legittimo ricorso da parte dell'operatore economico giudicatario dell'istituto giuridico dell'avvalimento premiale. Punto Zero provvedeva a costituirsi in giudizio con apposita memoria, evidenziando, tra le varie eccezioni, in primis l'inconsistenza del vizio di forma eccepito in tema di composizione della commissione giudicatrice, la cui nomina è avvenuta con la procedura coerente con la normativa vigente ed in modo assolutamente trasparente e non contestata dagli operatori economici in sede di pubblicazione del provvedimento di nomina dell'apposita sezione, società trasparente, del portale aziendale e del portale dedicato del MIF. Rispetto al secondo motivo di ricorso, si eccepisce che l'operatore economico giudicatario abbia ricorso all'istituto giuridico dell'avvalimento non in senso proprio, ma meramente premiale. Si precisa che su tale previsione il TAR non si è pronunciato. Con sentenza TAR Umbria 47 del 2024 è stato accolto ricorso introduttivo con conseguente annullamento degli atti della procedura di affidamento, a partire dalla determinazione dell'amministratore unico di punto zero del 29 giugno 2023. Di nomina della Commissione è logico assorbimento degli altri motivi aggiunti proposti dal ricorrente. In ogni caso si evidenzia come il Tribunale amministrativo, constatata la complessità delle questioni trattate, giustifica l'integrale compensazione delle spese di vite tra le parti. Rispetto a tale decisione, appare evidente rimarcare che lo stesso Tribunale non riscontre alcuna responsabilità della condotta dell'amministratore, dell'amministrazione che possa legittimare la condanna alle spese legali. A seguito della sentenza punto zero ha avviato valutazioni in merito ai conseguenti provvedimenti da adottare. In considerazione di tutto quanto sopraesposto ed in particolare alla materia del contendere e dalla relativa complessità della stessa, si intende quindi per quanto riguarda il merito al dedotto danno erradiale rappresentato dall'intendimento della Giunta, è quello di aderire e conformarsi alle indicazioni contenute nella sentenza del Tar 47 2004 del Tar Umbria, che, proprio alla luce di quanto statuisce la predetta sentenza, non si ritiene censurabile la condotta dell'amministratore di punto zero. Da ultimo, con specifico riferimento alle eventuali conflitti di interesse, si evidenzia che i risultati pubblicati nel portale aziendale del MIT, nonché depositati agli atti della gara, i curriculum e le relative dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi e che ad oggi non risultano pervenute segnalazioni in merito. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Porsi. Sì, allora intanto chiedo all'Assessore questa dettagliata relazione perché nel brusio generale e nel suo stile comunicativo, nel suo tono di voce, io non ho sentito nulla. Mi pare di aver capito però che lei abbia sostenuto che non avete ravvisato criticità nella definizione della composizione della commissione da parte di punto zero. Di fatto c'è che il Tar ha annullato una gara, quindi su quello non mi pare che sia un fatto sul quale non esprimere giudizi di merito e che per il resto aspettiamo sicuramente l'evoluzione del percorso. Io non ho espresso la determinazione di danni erariali ma è evidente che se continuiamo ad acquistare ossigeno con il prezzo più alto dell'appalto precedente non stiamo facendo un piacere alle casse e al bilancio della nostra sanità che comunque già versa in condizioni di difficoltà. Dopodiché prevedere l'esperto in materie giuridiche credo che non sarà stato un grande problema nel reperirlo tra le persone e le strutture di competenza e di pertinenza del sistema sanitario Umbro. Aspettiamo comunque feticiosi l'evoluzione di questo percorso e le chiedo la relazione perché vorrei capirne un pochino meglio. Grazie. Grazie consigliere. Recupero l'oggetto numero 4. Revisione degli indirizzi in vista dell'adozione del piano pandemico per il periodo 2024-2028. Interroga il consigliere Mancini. Prego consigliere. Assessore per sgomberare ogni dubbio questa interrogazione si ispira pienamente a quella fatta al Parlamento italiano. Chiaramente per le competenze del Parlamento italiano. Noi invece ne trattiamo qua per come che sono le sue competenze come Assessore alla Sanità della Regione Umbria e ovviamente rappresentante nella conferenza Stato-Regioni della nostra regione. Quindi premesso che il 18 gennaio 2024 la rivista Quotidiano Sanità ha pubblicato la bozza di quello che dovrebbe essere il piano strategico operativo di preparazione e risposta a una pandemia da patogene a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2024-2028. Della presente bozza di cui si è appreso da fonti giornalistiche si vincono dei punti che sembrano essere in piena continuità rispetto al piano che lo ha preceduto, ossia il bambriano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale Panflu 21-23 su cui chiaramente ci sarebbe da aprire paginate di valutazione. In vero si possono evincere alcuni punti chiavi della debolezza che meriterebbe un dovuto approfondimento visto che molte misure previste da precedente piano sono state disposte in un periodo di emergenza per una situazione pandemica allora sconosciuta. Oggi considerata la conoscibilità di determinati patogeni con potenziali pandemico si dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di individuare misure diverse. La bozza tra le azioni di contrasto di una pandemia indica i vaccini come le misure preventive più efficaci fatto di fatto, di fatto smentito anche oggi. Contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole senza tenere in considerazione che la validità di un vaccino deve essere analizzata caso per caso sulla base di ogni singola malattia e individuo e in base alle procedure di sviluppo dello specifico vaccino. Inoltre nella bozza si prevede, come già successo negli anni del Covid, la possibilità di assurre decisioni che vadano a limitare al sessore la libertà personale. Recentemente EMA ha comunicato che il vaccino proteggeva l'individuo e non ovviamente la collettività. Un contesto nell'ambito dei quali il diritto alla tutela della salute esige limitazione di alte libertà del singolo e delle collettività è sicuramente quello emergenziale, empiricamente individuato e scientificamente provato che mettendo in pericolo la salute dei singoli e la sopravvivenza delle comunità nel suo insieme impone al decisore pubblico di individuare le soluzioni più donne, neutralizzare o minimizzare i rischi anche attraverso la limitazione di distinti diritti e libertà fondamentali. Si legge nella bozza del piano. Altro punto di centrale importanza della bozza è quello relativo al coordinamento dell'emergenza. In questo contesto si legge nel piano il tradizionale strumento dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Ministero della Salute pur mantenendo un ruolo centrale nella gestione dell'emergenza appare non sufficiente per il governo complessivo della molteplicità di interessi e di settori incisi dall'emergenza sanitaria. La scelta del DPCM quale strumento centrale di governo dell'emergenza sanitaria difette dunque la posizione costituzionale del Presidente del Consiglio quale garante dell'unità di indirizzo dell'azione di governo e di bilanciamento di molteplici interessi pubblici. Posto che la definizione del piano è certamente di fondamentale importanza, visto che l'Italia nel recente passato si è trovata a affrontare il Covid con un piano pandemico obsoleto, sarebbe però opportuno definire il presente piano tenendo in considerazione il fatto che si debba procedere ad un'opportuna rivisitazione del piano redatto nel periodo dell'emergenza, poiché nel piano è stato elaborato in un frangente storico emergenziale dove non erano pienamente noti l'entità dell'elemento, i rischi e i danni. Si deve prendere poi in considerazione anche la parte in cui la presente bozza del piano, andando a prevedere virgolettato il piano strategico operativo per la pandemia da patogene a trasmissione respiratoria maggiore potenziale pandemico 24-28, adotta l'approccio proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità andrebbe a conferire all'MS un enorme potere dove ovviamente la politica, la scienza, le conoscenze finirebbero da una parte, considerato che attualmente l'attuale maggioranza di governo nazionale ha già avuto modo di esprimere durante il periodo di pandemia, giusto per evitare incomprensioni politiche, assessore, le proprie critiche, in ordine alla limitazione delle libertà personali di cittadini, in particolare attraverso l'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, atto normativo che esautora completamente il Parlamento, andando dunque a evidenziare la lesione dei pilastri dell'assetto democratico. Carissimo assessore, non a caso questo governo ha voluto la commissione di inchiesta sul Covid, quindi se ce l'hanno avuta vuol dire che quello che ho scritto, che ho detto in questi anni, non era infondato. Tutto ciò premesso e considerato, assessore, si interroga la giunta regionale per sapere se la stessa non ritenga di intervenire nelle sedi istituzionali opportune per chiedere al Governo nazionale una revisione della bozza del piano 2428 pubblicata da fonti giornalistiche, perché non abbiamo la grazia di conoscere, affinché la versione definitiva tenga conto delle conoscenze apprese dall'esperienza della pandemia Covid-19 e si ponga quindi in discontinuità rispetto a quanto previsto dal piano 21-23, in particolare nei punti indicati in premessa. La bozza del piano 2024-2028 è stata redatta da un gruppo tecnico istituito dal Ministero della Salute, all'interno del quale la Regione dell'Umbria non era presente appunto per volontà del Ministero. La condivisione della medesima nel corso dell'interregionale della prevenzione del 3 gennaio 2024, dopo le osservazioni tecniche da parte delle Regioni, ha portato alla bozza del nuovo piano pandemico proposto dall'attuale Governo e dall'attuale Ministero. Lo stesso è stato poi approvato in Commissione Salute e in conferenza Stato-Regioni con i pareri degli organi preposti. Dal punto di vista tecnico si ribadisce che le misure indicate nel piano sono state definite in risposta ad una eventuale pandemia che può causare in determinati contesti e momenti epidemici un'elevata morbidità e mortalità. Si rappresenta inoltre che le misure considerate sono esclusivamente quelle tecnicamente e scientificamente validate dagli organi competenti in materia. A tal proposito, per rispondere a quanto richiesto, si specifica che le misure di isolamento per evitare la diffusione del contagio e le misure di restrizione della libertà personale vengono attuate solo quando la situazione è estremamente pericolosa per la comunità e sempre in rapporto al rischio-beneficio. E comunque sono attivate con DPCM ministeriali, non certo né dalla Regione dell'Umbria né tantomeno da nessun'altra regione. Le terapie e i trattamenti farmacologici e non farmacologici vengono somministrati in relazione all'espressione clinica dell'epidemia. Le campagne di vaccinazione di massa e non di massa seguono le indicazioni degli organi centrali, quindi sempre del Ministero, e le procedure indicate da EMA e da AIFA, quindi sempre a livello nazionale. Le scelte di quali tipologie di atti da adottare in corso di un'emergenza resta disciplinato a livello centrale, quindi a livello del Governo. Il ruolo dell'OMS resta quello previsto da tale organismo. In merito alle modalità tecnico-giuridico e operativa, la Giunta regionale esprime il proprio parere, ovviamente attenendosi strettamente a quelle che sono le normative, grazie. Consigliere Mancini per la replica. Assessore, lei sa che il sottoscritto esattamente ottobre 2022 le domandava quanti migliaia di vaccini avevamo incenerito in Umbria, quelli del Governo di prima, 500.000? Report comunica una importante trasmissione televisiva di qualche giorno fa, dice che in Italia ne abbiamo incenerite 12 milioni di dosi, che non ha comprato né lei né ovviamente Draghi, l'Europa. Quelle stesse organizzazioni che lei ha chiesto a 20 euro a dose, 20 dollari, facciamo il conto che cifra viene fuori, 240 milioni di euro. Questa mia interrogazione, Assessore, come ha detto l'onorevole Borghi, è volto a indurre nel tavolo nazionale, come ha fatto lo stesso Ministro Schillaci in risposta all'onorevole Borghi, che le bozze che hanno dimostrato essere praticate degli errori madornali non debbano ripetersi, non più lockdown, non più green pass, quello che ha detto il Ministro. Quindi il nostro tema di oggi è che questa mia interrogazione deve essere portata al tavolo nazionale perché quella risposta del Ministro Schillaci non sia una risposta di circostanza, ma sia una risposta dovuta a quello che poi oggi dati, numeri, inchieste hanno dimostrato. Quindi spero che questo ulteriore dibattito in aula le diano ovviamente gli strumenti per difendere la nostra libertà e soprattutto la salute davanti alla scienza quella vera e non quella che è stata in qualche maniera osannata e sempre dimostrata in ogni trasmissione televisiva, facendo emergere che quelle verità come lei ha detto anche un anno dopo, le cure domiciliari c'erano e avrebbero impedito il ricovero del 90% delle persone nei nostri ospedali. Quelle queure quest'aula le approvò nel maggio 2021. Le monoclonali prima regione d'Italia le aveva approvate nel gennaio 2021 quando in quelle altre regioni ancora non ne facevano uso. Quindi queste esperienze fatte di coraggio e conoscenze bisogna rappresentarle nei giusti luoghi istituzionali come la conferenza Stato-Regione. Grazie. Grazie.